Buonasera a tutti, e benvenuti a tutti, come state? Tutto bene? Questo video sarà leggermente diverso, poiché vi farò ascoltare dei sogni con una forma di eco, quindi potete ascoltarvi al massimo della loro intensità. Dunque, distante, mette la copia e rilassata, non dimenticate di supportare il calore. Dunque, iniziamo questa esperienza. Dunque, iniziamo a spazare il calore, con il calore, per il calore. Super! Grazie a tutti. 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 a tutti.